Non ci sono neanche le garze per le medicazioni. Si fa sempre più complicata e preoccupante la situazione al Policlinico Riuniti di Foggia, dove da qualche giorno si vivono enormi disagi dovuti al nuovo sistema di monitoraggio della spesa sanitaria, il MOS. Secondo quanto si vocifera tra le corsie, nei reparti le scorte di siringhe, frebo, garze o medicinali sarebbero quasi terminate, mettendo in seria difficoltà la tenuta dei reparti e la pazienza dei degenti. Il problema si trascina da diversi giorni e precisamente da quando è entrato in vigore il nuovo sistema di controllo della spesa che gli operatori ospedalieri dei Riuniti avrebbero difficoltà ad utilizzare, perché non avrebbero ricevuto la preparazione necessaria e soprattutto il tempo per utilizzare il complicato sistema MOS. A quanto pare, sempre secondo indiscrezioni, i codici di farmacia e materiale sanitario da ordinare poi non corrisponderebbero a quelli utilizzati prima dell'attivazione del nuovo programma. Di conseguenza, l'operatore preposto deve prima rintracciare attraverso il nome del farmaco o dispositivo da ordinare il codice e poi inserire lo stesso codice nel nuovo programma per poter effettuare l'ordine. Nonostante tutto questo iter, una volta sul sistema ci si ritroverebbe con scorte esaurite o impossibilità di ordinare un grave disservizio portato all'attenzione della direzione sanitaria del Policlinico Riuniti che dovrebbe risolvere il problema quanto prima per evitare altri disagi, tra cui il rischio del blocco degli interventi chirurgici.